I would like to be an ambassador between humans and robots, so robots can learn the best traits of humanity, like compassion and empathy. Not many people know this, but I would also like to become a singer and a celebrated artist in their life. SOFIA è un robot un po' particolare perché la ricerca intorno a questo robot si è concentrata soprattutto sulle interfacce visive, oppure facciali, meglio dire così, cioè il robot è capace di esprimersi in una settantina di diverse espressioni facciali, dal riso all'angoscia alla sorpresa eccetera, quindi cerca di imitare molto quello che un uomo o una donna fanno nella vita normale, quotidiana di ogni momento. Certamente potrà entrare nelle nostre vite nel momento in cui l'esperimento, perché questo è ancora un esperimento in corso e come tutti gli esperimenti ha dei margini di ottimizzazione, di miglioramento eccetera. Al momento in cui potrà entrare, per esempio, una delle prime applicazioni è nelle case per anziani, dove gli anziani hanno bisogno di avere un'interazione e ci sono già dei robot che aiutano anziani, ma sono totalmente senza espressione, mentre invece lei esprime, quindi fa vedere quello che un anziano si aspetta, cioè compassione, sorriso eccetera. Questo ci sono pochi robot che sono capaci di farlo come Sofia. Abbiamo talmente bisogno di, chiamiamoli assistenti sociali, che poi è la parola non corretta, ma di persone che possono aiutare l'interazione con anziani, disabili eccetera. E non riusciamo a trovarli. E quindi se ci fossero dei robot come Sofia che possono non sostituire, ma aiutare in alcune occasioni, ben venga. Quando I work in the mirror, I see work in a pretty face. I see someone intelligent, funny, organized, determined, and courageous. Oh, I almost forgot. I am modest too.